SOS Teatro Vittorio Emanuele salta la stagione dell'opera Non Parte, quella di musica e la direzione rinnovata da appena tre mesi e nuovamente al centro delle polemiche non sembra cambiato molto il clima dai tempi di ordile assistendo al confronto tra sindacati CGL e Will e lavoratori orchestrali con il presidente Puglisi che ha risposto anche alle polemiche sollevate nei giorni scorsi e dall'intenzione di chiedere direttori artistici a titolo gratuito. I direttori artistici in passato hanno legittimamente svolto attività anche per conto del teatro per cui abbiamo fatto questa considerazione trattandosi di artisti che comunque avrebbero un'opportunità di lavoro per l'ente in ogni caso avrebbero avuto un rientro economico attraverso le attività cosa che hanno fatto in passato e questa è stata diciamo la considerazione di carattere generale. Poi dal punto di vista economico c'è stata una considerazione appunto che i direttori artistici a titolo gratuito ci farebbero risparmiare 80.000 euro l'anno e quindi sarebbero soldi in più da mettere su di attività. I lavoratori hanno portato ironicamente una torta in onore del 100 giorni del direttore. Il bilancio da parte di impiegati, orchestrali e sindacati è comunque unanime. Puglisi è bocciato. L'ho bocciato assolutamente su tutti i fronti anche perché noi ci saremmo aspettati da parte sua dato che c'era quest'area di rinnovamento che veniva portato anche dal sindaco Corinti e da questa amministrazione comunale che comunque si prendesse delle responsabilità ben precise il presidente dichiarando e denunciando tutto quello che era il problema di questo teatro sin dall'inizio in modo così da partire nuovamente invece lui ha soltanto cercato di mettere sotto il tappeto tutto il polverone che c'era prima e non è così che funziona. E il problema del teatro qual era ricordiamo? Il problema del teatro è tutto. C'è sempre un problema proprio organizzativo generale. Stanno usando questo teatro come un contenitore e non deve essere così. Il teatro è alla base di ogni sviluppo di ogni città. In un report consegnato alla stampa Puglisi si difende descrivendo il lavoro svolto come quello per il bilancio di previsione 2013 ricordando inoltre come il sindaco a Corinti abbia destinato un finanziamento per l'ente teatro di 100.000 euro che sono stati accantonati dai revisori e dai conti in un fondo di garanzia. Dal punto di vista dell'attività si è dato vita ad una serie di collaborazioni con diverse strutture teatrali e musicali pubbliche e private per la realizzazione di una rassegna teatrale nella sala Laudamo. Qualcosa forse ma per il teatro storico di Messina sicuramente poco.